Eccomi di nuovo qui, questa sera preparerò una cenetta veloce, semplice, buona e gustosa. Facciamo un frullato proteico, abbiamo la banana, formula 1 alla banana, proteine e ci mettiamo anche un cucchiaino di semi di chia. La chia è molto buona, dal termine azteco vuol dire forza, quindi è piena di ferro, vitamina C, omega 3, molto buona. Andiamo anche con 250 cc di acqua chiaramente oppure di liquido a piacere, l'importante è che non abbia zuccheri e quant'altro e che non sia latte. Ok, abbiamo frullato la banana, ora andiamo a mettere due bei cucchiaino di formula 1 sempre alla banana, due bei cucchiaino di proteine. Mettiamo un cucchiaino, un cucchiaino e mezzo di semi di chia. Ok. Andiamo a mescolare un attimino. Ok. Dopodiché lo frulliamo. Ok, la bevanda è pronta. E noi versiamo in una bella tazza. Buona cena a tutti.